Proseguono le iniziative cittadine a San Benedetto di Save the Children che mirano a contrastare la povertà educativa nel mondo. Abbiamo ascoltato una delle referenti regionali, Anna Rosa Cianci. Uno studio che ha fatto Save the Children, quindi una mappatura, un'indagine con un comitato scientifico sull'indice di povertà, si è evidenziato che l'Italia è al di sotto dei parametri europei e che c'è una disparità anche fra le regioni come opportunità educative e formative da dare all'infanzia e all'adolescenza. Infatti sono risultati al primo posto i Friuli Venezia Giulia, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Gli ultimi come opportunità educative la Campania, la Calabria e la Puglia. Le Marche sono messe al centro, non sono messe male, però quello che si evince il punto debole nelle Marche è la dispersione scolastica, quindi l'abbandono scolastico, e servirebbe a livello regionale un potenziamento degli asini nido e del tempo pieno. In altri indici, come per esempio il visitare musei, zone d'arte, le biblioteche, altri indici sono positivi nelle Marche, i collegamenti con il Wi-Fi nelle scuole, l'internet, possiamo essere soddisfatti abbastanza, perché il fatto stesso che i parametri dell'Italia intera sono al di sotto dell'Europa non ci deve rendere soddisfatti, ma ci deve dare da stimolo per poter creare una comunità educante che metta al centro il bambino e l'adolescenza, perché come diceva il poeta William Walsworth e Maria Montessori, il bambino è il padre dell'uomo. Quindi tutto ciò che viene investito in cultura, in formazione, in educazione, in istruzione del bambino, ci ritorna indietro e illumina il futuro. Grazie a tutti.